Io mi chiamo Giuliano e ho superato a luglio il concorso ordinario del 2023, mi ritrovo fuori da qualunque graduatoria, non esisto praticamente, io spesso sento battutine che noi abbiamo comunque dei posti fissi alla Checco Zalone, ben pagati, facciamo quattro, cinque, sei mesi di vacanza e poi questo caos, questa giugna, questa mancanza di dignità che si viene a creare viene completamente sommersa, infancata, quindi quello che ce l'ha a fare è anzitutto far sentire la nostra voce, rimarcare questi determinati tipi di concetti, per provare a fare in modo che ci sentano, che le cose cambiano, io penso che loro sanno ma non fanno, quindi la nostra voce deve essere sempre e sempre più forte e la smarrà